E' la più gettonata. Ottimo l'allineamento. A largo di tutti sbaglia il set di Oanna. Fa partenza One America. E One America allo stacco della macchina è già al comando. Di dentro c'è il numero 2 di Ole Blitz. Passa Bruno Arbore su Viaggio Bevi l'Acqua, Ole Blitz. A largo rinviene il numero 5 di Ocean degli Olivi. E' l'Ocean degli Olivi a gradazione, alla Tarcisio Greco, viene via. 15 in lancio, non c'è stato strappo. E avanza il 5 di Ocean degli Olivi. E giustamente viene imparato da Ole Blitz. Ha un po' tardato Tarcisio per la risalita, ma ora va a chiedere strada su Viaggio Bevi l'Acqua. Galoppa il numero 6 di One America. In seconda posizione c'è Ole Blitz. Passa qui davanti alle tribune Ocean degli Olivi senza grossa spesa. Quindi Tarcisio Greco a gestire la corsa 46 e 2 nei confronti di Ole Blitz. In terza posizione c'è il numero 1 di Olezius. Risale il 7 a largo di tutti di Oanna dopo grave errore al via. E i cavalli giungono agli 800 passati in tranquillo 1 e 2. Quindi Ocean degli Olivi al comando. Ovviamente non ha fretta Tarcisio. E segue la scena, ho il numero 2 di Ole Blitz. E a gravitare in mezzo alla pista ora troviamo il numero 1 di Olezius che anticipa la risalita di Oanna dopo rottura. 17 il chilometro. I cavalli sono in diagonale all'imbocco dell'ultima curva con il numero 5 di Ocean degli Olivi che sembra un attimino cotto. In posizione troviamo il numero 1 di Olezius e in diagonale il numero 2 di Ole Blitz. E in schiena ritroviamo ancora Oanna dopo rottura. I cavalli imboccano la curva finale con Ocean degli Olivi pressato da Ole Blitz e dal numero 1 di Olezius. Mentre Oanna non ha spazio. In retta d'arrivo il numero 2 di Ole Blitz sembra poter staccare nei confronti del numero 1 di Olezius. E dopo la retta d'arrivo il numero 2 di Ole Blitz viene a vincere nei confronti del numero 1 Olezius. E per il terzo una sfortunata Oanna. 2-3-1-16-8, bella vittoria da Astuzia di Biagio Bevilacqua che ha sfruttato un po' le incertezze degli altri. Sull'ultima curva si è liberato e è venuto via all'attacco di un ormai stanco Ocean degli Olivi. È passato e non ha avuto più problemi. Andiamo a rivedere le immagini. Mentre Biagio Bevilacqua comandava il suo allievo di dentro c'era il galoppante BP Arbore ma a largo l'uno di Giuliano Castiglia con Olezius faceva sua la seconda moneta mentre è stata strepitosa la performance di Oanna dopo l'ottura al via con Job.borrino.